Per vedere il pesce fresco siete sempre abituati, sapete vedere l'occhio, la branchia, però non è solo questo. Voi comunque vi dovete fidare di un pesce vendolo di fiducia, è una cosa fondamentale. Nella mia pescheria oltre a trovare prodotti freschi, una cosa fondamentale è anche la trasparenza delle etichette che magari uno può vedere, magari la provenienza del pesce, la zona fa o di appartenenza. Abbiamo pensato anche di inserire una vasca normativa per la depurazione dei frutti di mare, di un display per i crostacei. Ho pensato anche di integrare dei prodotti tipici, ossia dei prodotti di cetara, pasta, un buon vino. Grazie per la visione!